Il motivo della ricerca che verrà svolta in questo luogo è trovare nuove cure per diverse patologie e avanzare nella medicina preventiva, spersonalizzata, per continuare a migliorare la qualità della nostra vita e rendere anche il nostro sistema sanitario sempre più inclusivo e sostenibile nel tempo. Questo sforzo nasce da una sinergia tra privati e pubblici. E questa è anche la particolarità. E direi che dobbiamo coltivare queste forme di partenariato, queste forme di sinergia. È il modo migliore per rendere il sistema Italia sempre più competitivo. Io ringrazio tutti gli attori che hanno partecipato a questa intrapresa. Governo, Regione, Comune, Università Milanesi, altri istituti di ricerca. Ringrazio anche il primo direttore Cingolani dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Sicuramente senza questa cooperazione, senza questo sforzo collettivo, non saremo oggi qui a inaugurare questo centro, a celebrare questa giornata. Quindi a tutti deve andare il nostro ringraziamento. E permettetemi di rimarcare un punto. Lo Human Technopole è una sinergia tra pubblico e privato. La fondazione è nata, si è sviluppata grazie alla collaborazione di queste diverse realtà, legate però da una comune visione. Il mondo della scienza è quello dell'industria che si potranno confrontare per trovare e incrementare la crescita sostenibile del nostro Paese. Secondo luogo la sinergia tra ricercatori di affiliazioni diverse. Questo è molto importante. Vengo anche da un'esperienza accademica, conosco il nostro mondo accademico. È un mondo che si muove ancora tra steccati. È un mondo ancora che è sempre pronto a far scattare una linea di demarcazione, di confine. La forza della ricerca invece è l'interdisciplinarietà. Lo dicevo anche io nel mio piccolo, quando facevo ricerca, quando mi dicevano ma questa è competenza di altri colleghi, titolari di altre discipline. Io dicevo sempre e rispondevo ma i problemi vanno inseguiti laddove si sviluppano, non ci si può arrestare. Bisogna confrontarsi con i titolari di altre discipline, bisogna mescolarsi. Ma non si può pensare che un problema debba essere rimarcato sulla base di settori scientifico-disciplinari che noi abbiamo definito nel chiuso dei nostri ministeri, nel chiuso dei nostri regolamenti. Qui ci saranno sempre più eccellenze, si svilupperà una ricerca sempre più di avanguardia. Le biografie accademiche, le storie personali di Pietro Carninci, Gaia Piggino, Alessandro Vannini menziono qui alcuni degli scienziati che dall'estero sono tornati a lavorare qui a Milano ci confortano, ci inorgogliscono perché con lo Human Technopole anche Milano, il nostro sistema della ricerca sarà più attrattivo e riuscirà a segnare un primo significativo passo forse non primo, ma un significativo passo sicuramente rispetto, in controtendenza, rispetto alla marcia inesorabile di allontanamento degli studiosi dall'Italia. Ne abbiamo parlato anche al Politecnico di Milano e ne parlo spesso. Dobbiamo contrastare questo segno. Dobbiamo fare in modo che le nostre realtà di ricerca, le nostre strutture di ricerca siano attrattive e si crei quella controtendenza per cui i nostri giovani migliori che spesso oggi vanno all'estero devono essere invogliati a ritornare. Mi rendo conto che qui sta parlando un decisore politico, pubblico quindi che ha una grande responsabilità in questa direzione. Alcune misure le abbiamo già varate. Nel decreto crescita c'è la possibilità e viene offerta la possibilità agli studiosi e ai lavoratori in generale di poter ritornare in Italia e di poter beneficiare per i primi cinque anni di un regime agevolato per quanto riguarda l'IRPEF. Ma non è solo questo. Dobbiamo lavorare per fare sistema per offrire quindi un sistema più integrato e un ambiente più appetibile. Permettetemi di concludere richiamando la vostra attenzione su alcune considerazioni, raccomandazioni lo dico molto sommessamente finali. È fondamentale che i vostri successi me ne auguro tanti le vostre conoscenze siano disseminate in tutto il Paese. Dovete avere sempre la consapevolezza di essere protagonisti di un importante investimento nazionale di un'importante intrapresa che non deve essere però né locale né di parte. Starà quindi a voi e il Governo farà la sua parte per raccogliere questa sfida affinché i traguardi di Milano siano un esempio virtuoso di buona politica della ricerca e siano i traguardi e l'Italia intera e quindi dispeghino effetti positivi ahimè effetti positivi in tutto il Paese quindi ci auguriamo e dobbiamo lavorare tutti perché questa infrastruttura possa aprirsi e possa essere al servizio dell'intero Paese e può rappresentare e contribuire a rappresentare una importante proficua occasione perché la ricerca pubblica italiana possa potenziarsi possa rilanciarsi. Lo Stato ha scelto di concentrare qui un investimento e le parlava di investimenti Presidente ma qui evidentemente abbiamo già un investimento economico di una certa rilevanza 140 milioni all'anno che non sono pochi non sono pochi in un sistema ovviamente in cui in un quadro di finanza pubblica così contratto e tra l'altro non abbiamo posto nessun vincolo temporale a questo impegno ancora più significativo ecco a questa ingente consistente disponibilità di risorse pubbliche non può non corrispondere una seria responsabilità della sua governance nei confronti di chi fa o vorrebbe fare ricerca nel nostro paese e per questo motivo che l'Italia ha bisogno che lo Human Technopole si sviluppi con un piano strategico che contempli la creazione di infrastrutture sistematicamente sottolineo sistematicamente aperte al confronto dei migliori scienziati di ogni provenienza i ricercatori che animano le nostre università i vari centri di ricerca i politecnici l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico sono in attesa da anni di occasioni sempre migliori per poter qui lavorare sul suolo italiano per poter qui continuare i loro progetti di ricerca ecco Human Technopole io mi auguro e confido possa costituire una buona occasione per tutti possa in qualche modo contribuire a creare un hub con tecnologie e competenze all'avanguardia e quindi i fondi stanziati dallo Stato siano garanzia di bandi competitivi continuativi oltre che di procedure trasparenti di valutazione dei progetti di ricerca che verranno via via proposti sarà utile a tutti lo dicevo prima la ricerca non progredisce mai in solitudine sono casi rari sono casi isolati delle volte registriamo anche casi di serendipiti dove si ritrovano delle soluzioni che assolutamente non erano neppure ricercate o immaginate quasi casuali però di solito sappiamo invece che i progetti di ricerca devono avere una solida base condivisa partecipata per poter esprimere appieno e poter perseguire dei traguardi quindi impossibile immaginare una sfida più avvincente per la dirigenza e più proficua anche per i lavoratori sono certo che Palazzo Italia diventerà un modello di come fare buona scienza anche su scala nazionale a beneficio di tutti anche per dar seguito all'impegno del governo di colmare quel gap che esiste tra nord e sud del paese e ciò non a caso a partire dalla sanità dalle politiche di welfare che secondo in accordo col dettato costituzionale sono quelle più inclusive e rispettose della dignità della persona umana vi auguro dunque nella vostra ricerca di porre sempre domande sempre più importanti sempre più sfidanti e di trovare risposte all'altezza della vostra ambizione grazie 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 grazie